Aveva un comportamento anomalo e sospetto la donna venente prosperosa che lunedì scorso si aggirava velocemente tra le bancarelle del mercato. Per questo non è passata inosservata dai carabinieri di Fossumbrone che hanno deciso di seguirla fino a raggiungerla in un vicino parcheggio. Ad attenderla il marito e il figlio giovanissimo a bordo di una berlina di lusso. Hanno voluto vederci chiaro i militari che hanno accompagnato la famiglia negli uffici della caserma, dovendo poi aspettare il personale femminile per la perquisizione della donna, i tempi d'attesa si sono allungati. Nel frattempo è arrivato un 61enne forse empronese che ha chiesto di poter denunciare un furto subito poco dopo. Appena varcato l'uscio ne vede l'autrice seduta in sala d'attesa. Invitato a riportare con calma quanto accaduto, l'uomo racconta di averla incrociata ad un bar del centro. Dopo averlo avvicinato, la 35enne gli ha chiesto un passaggio in auto per recarsi in un vicino supermercato. Ma una volta giunti sul posto, lei per riconoscenza lo abbraccia calorosamente per poi chiedergli di riportarla nel luogo in cui si erano incontrati. Solo dopo averla fatta scendere dall'auto, il malcapitato si accorge del fatto che la sua catenina, con tanto di crocifisso in oro massiccio, non c'era più. Le perquisizioni dei carabinieri poi non hanno avuto l'effetto sperato. Notoriamente chi compie questo tipo di furti si muove in batteria e quindi appena messo a segno il colpo consegna la rifurtiva a un complice per rendere difficoltoso il recupero. La rumena, residente a Corciano, in provincia di Perugia, con precedenti specifici, è stata denunciata in stato di libertà all'autorità giudiziaria.